Perché fare impresa è una questione di margini e non di volume? Ciao, sono Corrado Fontana, il re delle reti vendita, il formatore numero uno nel mondo ai ticket per il B2B e le reti vendita. Vendita ai ticket cosa significa? Significa vendere il prezzo più alto possibile. Perché parliamo di margini e non di volume? Ossia, per fare impresa, perché è più importante comprendere i margini rispetto al volume? E soprattutto, perché se voglio riuscire a fare impresa è indispensabile vendere il ticket? Innanzitutto, facciamo la differenza tra margini e volumi. Molto spesso, nel linguaggio imprenditoriale, si fanno i conti, per così dire, sul fatturato. Cioè, ci si vanta del fatturato, o si valuta lo stato di salute di un'azienda sulla base del fatturato. Ossia, se un'azienda fattura tanto, allora è una bella azienda, se un'azienda fattura poco, non è una bella azienda. In realtà, quello che fa la differenza sono i soldi che rimangono a fine anno, quindi il famoso margine. Le aziende che hanno il margine più basso sono quelle che falliscono, solo quelle che soffrono, solo quelle che purtroppo non hanno una vita lunga. E la vendita ai ticket è il segreto che permette di far sopravvivere un'azienda. Voglio dire, vendere al prezzo più basso, quindi con i margini più bassi, è la cosa peggiore che si possa fare. È la strategia più stupida e insostenibile per qualsiasi partita IVA e qualsiasi margine. Ed è la strategia più diffusa perché si pensa che sia l'arma vincente per combattere la concorrenza. Si pensa erroneamente che il cliente guardi il prezzo e soprattutto magari quando si hanno due prodotti uguali, quindi uno dice, ma io ho lo stesso prodotto che ha il mio concorrente, per forza di cose io posso conquistare il cliente solo con il prezzo più basso. No, non funziona così. Il margine sacrificato, ossia lavorare sul prezzo più basso per sacrificare il margine, porta alla chiusura. Perché? Perché ci sarà sempre qualcuno che è pronto a mettere una croce sopra il prezzo e a fare uno sconto. La domanda è, quanti di questi durano? Come può essere sostenibile questa cosa? E qui interviene il discorso della vendita ai ticket. La vendita ai ticket che cos'è innanzitutto? Allora, la vendita ai ticket è la vendita con il margine più alto possibile, di conseguenza con il prezzo più alto possibile. Se nella vendita tradizionale è cosa diffusa il fare preventivi a vuoto, quindi mandare offerte per email, presentare più offerte al cliente perché magari vuole delle variazioni, vuole sentire, valutare delle differenze sulla configurazione del prodotto o altro, piuttosto che il cliente pretende degli sconti perché dice beh, sai, il tuo concorrente mi fa la stessa cosa, se tu mi fai meno vengo da te, o tu cosa puoi farmi? Quindi, la vendita tradizionale in questo modo non si guadagna mai perché c'è sempre chi fa meno e c'è sempre la tendenza da parte del cliente di voler controllare l'acquisto dicendo mi devi fare meno possibile. Non porta sostenibilità all'azienda, non porta utile all'azienda, non fa star bene l'azienda. Quindi le aziende che puntano sul prezzo più basso non durano, non durano proprio. La vendita i ticket quindi è la vendita senza gli sconti, senza rincorrere il cliente, senza l'email di rincorsa nel dire ci hai pensato o non ci hai pensato, senza preventivi, senza fare tutte quelle cose lì che fanno perdere tempo e non portano alla fine a nulla di concreto. Però cosa significa vendita i ticket nello specifico? varia molto dai settori, varia molto dalle aziende, varia molto dai prodotti perché ci sono prodotti da 100 euro, ci sono prodotti da 500 euro, da 1000, da 10.000, da 100.000, da un milione e più. Quindi la vendita i ticket dove si basa? La vendita i ticket l'ho specificato in tanti video, è un sistema di vendita dove io porto il cliente a comprare da me al prezzo più alto. La domanda vera che possiamo porci però è come faccio io a marginare di più? Cioè come faccio a vincere nella guerra con i miei competitor, nelle vendite? Come posso fare? Devo riuscire a lavorare sul margine più alto, perché? Allora, le aziende che hanno la volontà di lavorare sul margine più basso e con i prezzi più bassi sono le aziende che si devono strutturare maggiormente. Mi spiego. Allora, se io volessi fare un milione di euro, potrei fare un milione di euro vendendo prodotti da un euro per un milione di clienti. Quindi io vorrei il mio milione. Un prodotto da un euro per un milione di clienti. Potrei farlo anche con un prodotto da 10 euro con 100.000 clienti. Ok? E ho sempre il mio milione. E' chiaro però che parliamo di grossi volumi di clienti e gestire volumi di clienti di questo tipo implica avere una struttura molto pesante, un'azienda veramente pesante, tanti dipendenti, assistenza clienti, tanti reparti, perché spedire un milione di pezzi o 100.000, assistere un milione di clienti sono cose che comportano tanti costi. La vendita a prezzo più basso è quindi adottata in questi sistemi qua davvero una perdita, soprattutto perché ci possono essere dei competitor, quindi dei concorrenti, che volutamente usano il prezzo più basso per distruggerti dal mercato. Cioè hanno magari tanto capitale per cui dicono io posso andare anche in perdita per sei mesi, per un anno, per due anni, finché mi conquisto il territorio, ti fanno chiudere e poi loro alzano i prezzi. Ma da un punto di vista imprenditoriale, ragioniamo, ha senso dire faccio un milione di euro e magari porto a casa pochissimo? Cioè è meglio fare piuttosto 100.000 euro e portare a casa un utile di 80? Oppure ha sempre senso fare un milione di euro di fatturato e portare l'utile a casa di 80? Cioè qual è quello che mi conviene di più? Converrà a fare un fatturato più basso ma un profitto più ampio rispetto a tanto fatturato ma poca ciccia. Soprattutto perché comportano tanto stress, tanta fatica, tante energie. Cioè gestire queste cose qua è davvero complicato, è assurdo voler lavorare in questo modo. Se invece io, per assurdo, andassi a lavorare in questo modo qua, già arrivare a questo prezzo a me servirebbero solamente mille clienti, no? Io ho sempre il mio milione. Cioè se io vendo a 1.000 euro, non più a 10, non più a 1, ma a 1.000 euro, mi bastano 1.000 clienti e faccio il mio milione. Oppure potrei, guarda, 10.000, vedi come funzionano le ticket? Io aumento il mio prezzo perché aumento i miei margini e qua mi basta lavorare con 100 clienti. E porto a casa sempre il mio milione. Vogliamo fare ancora di più? Vendo un prodotto da 100.000, mi bastano 10 clienti. E faccio sempre il mio milione. Qual è il vantaggio? Qui faccio la fame e ho un sacco di testi di cazzo. Rotture di coglioni, cioè clienti che rompono le palle. Qui, in queste zone qui, faccio tanto profitto, tanta ciccia e non ho rotture di scatole. Ho un'azienda più snella, ho un'azienda più leggera, ho un'azienda che è più facile da gestire. Che cosa cambia? Cambia il voler vendere o no, secondo i ticket. Vendita tradizionale? Faccio la fame. Ha gente che muoiono di fame, che non guadagnano niente, l'azienda che è tirata con la liquidità, perché tra l'altro più vado ad abbassare il prezzo, più ho problemi di pagamento perché devo dilungare i pagamenti. Qui ho pagamenti anticipati addirittura. Qual è la scelta migliore? È chiaro che a questo punto la domanda che sorge spontanea è sì, ma come faccio a passare da qua a qua? Cioè, come faccio a fare il salto? E qui subentro io. È molto facile se sai come farlo. Cioè, per vendere i ticket, l'unica cosa che devi fare è imparare a vendere i ticket. E ho preparato per te un webinar completamente gratuito al quale tu puoi partecipare. Ti basta cliccare sul pulsante, sul link qui sotto in descrizione o sopra al mio profilo, a seconda di dove stai guardando questo video. In questo webinar io ti mostro quello che devi fare per passare da questa condizione a questa. È in modo molto facile. Sono 45-50 minuti di webinar in diretta dove ti mostro come applicare questo concetto alla tua azienda. E vale anche se vendi materie prime, commodity o prodotti uguali alla concorrenza. Ti mostro come si fa. Nel webinar puoi quindi capire in maniera chiara e cristallina quelli sono i passaggi che devi mettere in pratica per la tua azienda. Se invece sei solo curioso di conoscere di più sulle mie tecniche di vendita, su come posso aiutarti a vendere i ticket, allora iscriviti al mio canale e continua a seguirmi. Grazie a tutti.